amici del grande calcio bentornati su senza giri di parole io sono biazacu e io tatsuno post partita brasile svizzera 1 a 0 e lapsus portogallo uruguay 2 a 0 quasi 3 vabbè andiamo avanti prima di iniziare con il video vi ricordo di iscrivervi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che escono su questo canale e instagram seguiteci su instagram brasile svizzera 1 a 0 una partita che ci ha detto un paio di cosette secondo me quello che ho capito questa partita è che brasile una squadra piena di giocatori che possono fare la differenza però secondo me c'è un certo giocatore che è un po stato sottovalutato da molti e la sua mancanza si è sentita parecchio il suo nome è neymar junior ah pensavo volessi dire danilo no come marchisi ha detto che quello che manca davvero è danilo scusa perché giustamente tu non la gente non so fa difficoltà da ammettere la classe e la superiorità che ti dà quel giocatore ha sempre avuto un certo astio non so sarà perché è antipatico neymar però ragazzi neymar junior è il giocatore più forte di questa rosa e anche nella scorsa gara voglio ricordare a tutti quanti il brasile non riusciva a segnare come è nato il gol da neymar junior che si è dribblato 3-4 giocatori al limite dell'aria e poi da lì nasce il gol anche oggi sta succedendo la stessa cosa contro un'ottima difesa come la svizzera che notoriamente anche grazie alle parate del suo portiere sommer che pure all'italia ha fatto dannare è una squadra che comunque è difficile da penetrare e il brasile c'è riuscito in fuorigioco una prima volta e poi alla fine con casemiro ma è stata una sudata che si ricorderà per tutto il torneo sono riusciti a segnare all'ottantatresimo bellissimo ed è stato comunque un gol anche un pizzico fortunoso non è stato tutto qualitativo perché nel resto quando le squadre si chiudono bene quello che succede che poi ti serve la giocata del campione e ci sono alcuni calciatori del brasile che danno la sensazione di non essere ancora pienamente pronti per assumersi un certo tipo di responsabilità su tutti proprio vinisius che dimostra quanto un po nelle gerarchie del del brasile stia indietro perché in alcune situazioni il real avrebbe fatto il bello e il cattivo tempo nel in questo mondiale invece si ritrova a scaricare ovviamente poi anche i singoli giocatori hanno una storia quindi probabile che vinisius si sbloccherà durante questo torneo però e se c'è un giocatore che veramente non ha paura quando scende in campo con la moglie del brasile di prendersi la responsabilità di fare un errore o di creare una giocata importante quello è neymar ma più che altro non ne fare neanche una colpa agli altri semplicemente neymar è superiore punto ma non superiore soltanto ai giocatori del brasilia la maggior parte dei giocatori che stanno nel mondiale e quindi se manca lui gli altri sono giocatori che hanno dei colpi hanno il potenziale per diventare dei fenomeni in futuro ma un fenomeno in questa squadra si chiama animar non ce ne sono altri alla fine parliamo di una partita che ha vinto giustamente il brasile perché comunque la svizzera ci ha provato davvero poco e quindi alla fine fine si hai difeso bene però poi l'hai preso perché lo prendi ti capita di prenderlo poi è arrivata la partita del portogallo anzi prima vediamo la classifica del brasile per capire che ormai il brasilio questa vittoria si è qualificato e deve soltanto confermare il primo posto vincendo o pareggiando la prossima partita con il camerun che praticamente ha soltanto la vittoria come possibilità di sopravvivere stessa cosa per la serbia con la svizzera quindi diciamo che il girone ormai inizia a prendere una certa forma dobbiamo solo capire chi tra camerun serbia e svizzera riuscirà a spuntarla andiamo quindi abbiamo la serbia che affronterà il brasile no la serbia con la svizzera allora sì c'è speranza per la serbia andiamo al portogallo portogallo uruguay che me la immaginavo una partita del genere perché comunque sia il portogallo che l'uruguay hanno due ottime difese e hanno soprattutto il portogallo un ottimo attacco sia giovane che d'esperienza l'uruguay invece più esperienza che gioventù però non efficace come quello del portogallo però qualche colpo qualche giocatore in attacco interessante ce l'ha il problema è che portogallo si è dimostrato superiore per quanto riguarda il palleggio diciamo l'uruguay è uscito verso la fine quando il portogallo era già iniziato aveva già iniziato ad annusare l'odore della vittoria e abbiamo visto comunque un primo tempo proprio di livello normale dove le squadre sono anche un po studiate e il secondo tempo invece hanno dato hanno schiacciato l'acceleratore poi sono arrivati i cambi sfortunato l'uruguay per i legni che continuano a prendere in questa competizione per il resto abbiamo visto un bruno fernandez in grande spolvero che stava anche facendo il terzo gol prima con un bel tiro a volo parato da rocce e poi un palo all'ennesimo il primo gol è divertente anche perché cr era convinto di averla toccata invece non la toccata secondo te lo era convinto voleva convincersi no l'ha colpito con la sua aura perché si stava trasformando in super saian pur di arrivare su quel pallone e quindi ha avuto l'impressione di averla toccata vabbè comunque nel gol anche se non l'ha toccata il gol lo nasce anche per merito suo perché dubito che il portiere dell'uruguay si sarebbe fatto segnare da un tiro del genere dalla distanza di Bruno Fernandez cioè da un cross praticamente un po' come è successo con Courtois con il Marocco cioè quando un giocatore ti passa davanti il portiere rimane fregato c'è poco da fare quindi anche se non l'ha toccata Cristiano Ronaldo ha partecipato a quel gol alla grandissima ah io devo dire che sono rimasto molto sorpreso da questa partita del Portogallo in positivo cioè mi è piaciuto tutto del Portogallo stasera a parte ovviamente i minuti finali in cui mamma mia si hanno abbassato la tensione ma di parecchio e tanto che poi mi sono trovato d'accordo con l'idea di Fernando Santos letteralmente di prendere tutto il centrocampo e di cambiarlo perché stava andando tutto male però veramente tutti hanno giocato bene ha giocato bene il portiere in difesa sono stati puliti sistemati addirittura Cancelo che veramente ha fatto la solita partita che fa il Manchester City attacco e difesa a centrocampo quando c'è Bruno Fernandes che ti riesce a prendere tutte le zone del campo a fare sempre il passaggio giusto è un piacere da vedere e contro ci avevano comunque un Uruguay che si è fatta rispettare anche nel momento migliore del Portogallo Bentancur ha fatto la prima parte di partita che non ho capito come cazzo sia possibile al di là di quanto sapevamo fosse forte è veramente migliorato tantissimo ai tempi della Juventus e non penso che alla fine l'Uruguay abbia molto di cui incolparsi perché hanno perso una partita giocata bene semplicemente davanti hanno avuto probabilmente un Portogallo che si è trovato cioè si è definitivamente trovato ha trovato il suo equilibrio anche se con qualche dubbio perché sai lasci sempre Leao in panchina e quando lo fai entrare non è il Leao che conosciamo noi e ora soprattutto questo infortunio di Bruno Mendes dobbiamo capire quanto sarà importante perché sarebbe pure un'altra bella botta ho letto e ovvio ho sentito qualche polemica sul calcio di rigore che comunque è avvenuta al 93 quindi non credo che abbia cambiato poi di molto il risultato però ragazzi c'è una domanda che secondo me un po' tutti si dovrebbero porre il giocatore non si può tagliare il braccio si deve proteggere dalla caduta ok quindi è legittimato ogni giocatore ad intervenire in questo modo? può avere la chance di andare a ribattere un tiro con la scusa di proteggersi dalla caduta con il braccio bello steso a terra che magari se avesse tirato Bruno Fernandes in porta e con quella scivolata con la mano appoggiata a terra praticamente avrebbe fatto una parata il difensore cioè è legittimato un difensore siccome si deve proteggere dalla caduta ad allungare così tanto la sagoma mettendo il braccio bello steso a terra che ti blocca il tiro io posso anche essere d'accordo ma lui poi come fa a cadere? non cade, non deve cadere, non deve intervenire così c'è poco da fare cioè se tu mi vai ad allungare diventi più grande quindi quella è una parata cioè quello è un intervento da portiere allora facciamo proprio l'intervento a cruce le abbiamo tutto da mezzo cioè io quando vedo questi episodi è quello a cui penso cioè allora è così che possono intervenire i difensori possiamo usare la scusa che metto la mano a terra quindi mi devo proteggere dalla caduta allora sì posso andare a contrastare i tiri dell'avversario in quella posizione più facile no? magari tira sotto le gambe e io la parro con la mano cioè secondo me il rigore è giusto perché comunque lui ha scelto di correre quel rischio ha scelto di entrare scivolata in quel modo e hai voluto scommettere l'hai presa con la mano, è colpa tua rimanevi in piedi cercavi un altro modo per fermare il tunnel di Bruno Fernandes se non si è ascritto a nessuna parte si doveva buttare a terra per fermare il tunnel di Bruno Fernandes è quello che secondo me ci si dovrebbe focalizzare perché Chimenez era costretto a fare quella tipologia di intervento no, l'ha scelto lui a corso il rischio è stato punito sì, beh questa è la sostanza del discorso infine soprattutto perché con un calcio che vuole e pretende di continuare a essere così tanto interpretabile un difensore così come un attaccante deve sapere che le sue scelte saranno interpretate dall'arbitro quindi ci sarà l'arbitro che ti dirà eh no, vabbè poverino perché stavi cadendo l'hai toccato con la mano non fa niente è l'arbitro che ti dirà no, tu ci hai messo la mano io ti punisco perché era un'occasione importante da parte dell'avversario e quindi o ci si fa furbi come spesso fanno i difensori oppure cominciamo a pretendere che il regolamento sia chiaro su quando deve essere il rigore e su quando non lo deve essere allora questo girone invece è abbastanza chiaro perché il Portogallo a questo punto si lancia per concludere al primo posto anche perché in questo girone è abbastanza importante andare ad arrivare ai primi perché chi arriva al secondo acciapperà il Brasile nel prossimo turno quindi Portogallo quasi primo e ma dobbiamo vedere tra Ghana Corea e Uruguay chi la spunterà diciamo che Uruguay-Gana è un dentro fuori perché chi vince molto probabilmente arriverà al prossimo turno e il Portogallo invece sarà dovuto vedere con la Corea e la Corea può solo vincere per continuare a sperare però col Portogallo è difficile sì 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 sarà molto complicato per la Corea che però può contare proprio su quello che abbiamo detto per quanto riguarda la scorsa partita cioè che ha questo connubio di tecnica e fisicità che può mettere molto in difficoltà il Portogallo perché anche stasera il Portogallo ha puntato tantissimo sulla sua abilità di vincere quasi sempre sulle seconde palle e sui colpi di testa vediamo se pareggiando quell'intensità fisica che hanno loro come succede ai sudcoreani cambierà qualcosa ma è difficile perché sono veramente forti vedremo vedremo ragazzi questo video finisce qui fateci sapere cosa ne pensate di queste due partite e chi passerà il turno secondo voi continuate a seguirci e noi ci rivediamo in un prossimo video grazie a tutti